Buongiorno a tutti, io sono Nadia Dallariva, sono una naturopata, flori terapeuta con specializzazione in iridologia. Qualche informazione mia la potete trovare sul mio sito che è www.volaistarbene.it proprio perché credo e anzi sono sicura che è importante che vogliamo star bene, per star bene davvero e non avvalerci solo delle cure. Io ho frequentato la scuola di alta formazione, l'ho conosciuta attraverso il dottor Terzani, ci conosciamo mai da tempo, da quando sto utilizzando S-Drive perché avevo bisogno e lo dicevo molto spesso a Giorgio di avere un aiuto nell'interpretazione a 360 gradi di S-Drive perché S-Drive dà un sacco di informazioni, tante, ma io ma tanti altri miei colleghi sentiamo il bisogno di essere aiutati nell'interpretazione della mappatura. La scuola mi ha dato un grande aiuto e spero che continui anche perché c'è bisogno anche di collaborazione fra di noi per avere un po' un feedback su quello che vedo io, su quello che vede lui o su quello che vede lei e nell'interpretazione. Per cui sì, per me è stata un'ottima esperienza e spero lo sia anche per chi frequenterà in seguito.